Una domenica di forte vento non ha rovinato l'entusiasmo che da quasi mezzo secolo caratterizza Cartoceto a novembre con il suo tradizionale appuntamento con la mostra a mercato dell'olio e dell'oliva. Appuntamento che dal 2014 si è ridefinito nel format di Cartoceto DOP il Festival per un contenitore che mette sempre al centro il prodotto agroalimentare d'eccellenza DOP ma che lo contorna di molto di più, dai cooking show agli spettacoli musicali nel Teatro del Trionfo dall'animazione di strada alle escursioni naturalistiche, appuntamento diviso in due domeniche che concederà il BIS il 12 di novembre. Quasi mezzo secolo di storia la DOP Cartoceto, l'unica dopo le aria di tutta la regione Marche che ricordiamo al di là della denominazione ricomprende anche i territori dei comuni di Fano, di Cogli al Metauro e di Monbaroccio quindi è chiaro che ha anche un riflesso molto positivo da un punto di vista economico per il nostro territorio e quindi credo che meriti una degna celebrazione, valorizzazione ed esaltazione come cerchiamo appunto di fare così negli ultimi anni. Faccio complimenti a Cartoceto perché noi ci dobbiamo guardare come un territorio unito, dobbiamo valorizzare la nostra gastronomia, Fano fa parte della Reale DOP e questa è una bellissima manifestazione che valorizza tutti. Al fianco dei delegati dei comuni della Reale DOP presenti al taglio del nastro anche l'assessore regionale Aguzzi e quei comuni che come l'olio vantano l'onore di una propria DOP territoriale. Mi riferisco ovviamente al territorio del comune di Urbino con la Casciotta e mi riferisco anche al comune di Carpegna con il prosciutto anche perché c'è un progetto legato alle tre DOP della nostra provincia, un distretto probabilmente da promuovere e quindi insomma questa presenza istituzionale a testimonianza dell'importanza dei progetti che stiamo portando avanti sicuramente ci fa particolarmente piacere. Quando si parla di territori, di specificità, di tipicità, ognuno ha da offrire delle cose meravigliose in Italia. Ecco, noi credo che nella nostra regione una delle cose più particolari che abbiamo è questi nostri meravigliosi borghi inseriti in questi contesti naturali, ambientali bellissimi, ricchi di cultura, di storia, di tradizione, di enogastronomia, di particolarità e tipicità dei prodotti, come appunto qui a Cartoceto l'olio DOP. Questa è, se non sbaglio, la 46esima edizione, quindi togliendo il paio d'anni di Covid siamo vicino ai 50 anni di questa iniziativa. Questo vuol dire che è un'iniziativa che si basa su qualcosa di solido, di vero, di forte, di credibile, non è un qualcosa di improvvisato, diciamo così, è solamente di immagine, non è qualcosa che è veramente concreto. Quindi ecco, una delle ricchezze delle Marche sono proprio questo tipo di iniziativa, questo tipo di iniziativa. E non per niente io anche oggi, come del resto anche gli altri anni, sono qui in rappresentanza della regione Marche, in rappresentanza del Presidente Acquaroli, che proprio nei suoi programmi, fin dal primo momento come amministrazione regionale, ha posto sempre in evidenza le attività legate alla tipicità, alla gastronomia, alla bellezza dei nostri borghi e dei nostri territori. A infiocchettare il fulcro centrale del Festival, il consueto impegno dei volontari della Proloco, affiancato da quello degli olivicoltori, che in questo 2023 hanno dovuto barcamenarsi in mezzo alle difficoltà di un meteo inclemente. A parte il clima che ci ha un pochettino penalizzato, c'è anche la campagna olivicola che non è stata una delle migliori, però comunque i produttori hanno risposto alla nostra chiamata venendo in piazza. Ci tengo a precisare che comunque l'olio è di ottima qualità, anche se è poco, perché dovuto al clima, alla stagione climatica che è stata un pochettino dura, che ci ha un pochettino messo in difficoltà le aziende agricole, ma non solo l'olio, il vino poco, le castagne poco, il grano poco, quindi è stata una stagione agricola scarsa e facendo fronte alle spese che hanno gli agricoltori comunque i prezzi un pochettino sono saliti, ma questo giustifica comunque il prodotto di qualità. Non solo la bontà dell'olio, anche la qualità dell'offerta musicale. Ieri è andato sold out il concerto di Simona Molinari, domenica prossima si concederà il bis con il concerto di Gaemon sempre al Teatro del Trionfo. Dal 2014, accanto alla centralità del prodotto, voluto un po' costruire tutta una serie di attività, di intrattenimenti di carattere culturale, artistico e musicale, che non sono soltanto un po' il format di Cartocetto dopo il Festival, ma vogliono anche essere di più, vorrebbero essere se non altro quel modello di sviluppo socio-economico che l'amministrazione ha in testa, in animo e soprattutto tra gli obiettivi concreti per lo sviluppo sia sociale che economico di questo meraviglioso territorio.